Sono certe storie che, anche se riguardano cose concrete, avvenimenti reali, personaggi in carne ed ossa, sembrano sempre e comunque inquietanti e spaventose storie di fantasmi. Sono le storie di certi misteri italiani, quelli grandi, quelli che coinvolgono l'intero paese e che si comportano sempre come fantasmi di un romanzo o di un film dell'orrore. Fanno paura e tornano. La nostra storia inizia con un treno, un interregionale. L'interregionale 2304 che da Roma va a Firenze e che in questo momento sta correndo nelle campagne vicino a Castiglion Fiorentino. È il 2 marzo del 2003 ed è presto, sono le 8.25 di domenica mattina. Ecco, se la nostra storia fosse un film, inizierebbe proprio con una scena come questa. Carrozza numero 4, una di quelle senza gli scompartimenti. Poca gente, un signore e una signora, marito e moglie, che vanno a Firenze per un incontro sportivo. Un'altra signora, seduta più avanti. E altre due persone, un altro uomo e un'altra donna. Ecco, la donna. Fermiamo per un momento l'immagine su di lei. Ha un'aria strana, un po' triste. Ha i capelli lunghi, arruffati e rossicci. È sicuramente molto più giovane, ma a vederla così sembra che abbia almeno 50 anni. Cosa fa quella donna? Scrive, digita dati in un computer palmare, un piccolo computer portatile. Fine fermo immagine, la scena continua. Nella carrozza numero 4 ci sono anche tre poliziotti in divisa. Sono tre sovrintendenti della polizia ferroviaria, in un normale servizio di pattuglia. Forse hanno notato anche loro quella donna triste che scrive sul palmare, perché puntano direttamente su di lei e sull'uomo che l'accompagna. Chiedono a tutti e due i documenti. Ecco, qui ci vorrebbe un particolare dei documenti, perché sono strani quei documenti. Hanno i dati, il nome, la residenza, la data di nascita, tutti scritti a mano come non si faceva più da tanto tempo. E anche le foto. Sono soltanto spillate con le graffette. C'è qualcosa che non torna. Uno dei tre poliziotti, il sovrintendente Emanuele Petri, chiama la centrale col cellulare di servizio per chiedere un controllo. Ed è a quel punto che l'uomo che sta con la donna triste scatta, tira fuori un'automatica a calibro 7,65 e la punta alla testa del sovrintendente Petri e la pianta nel collo. Grida a tutti di non muoversi. Gridano anche i poliziotti. Stai calmo, metti giù la pistola. Si risolve tutto. Sono attimi velocissimi. E in un romanzo o in un film, a questo punto ci sarebbe qualcosa per allungare la tensione, per mantenere la suspense. Ma questo non è un film. Questa è una storia vera, veramente accaduta in quella carrozza dell'Interregionale 2304 e non c'è bisogno di niente per renderla più drammatica e feroce di quanto effettivamente non sia. La donna si avvicina ad uno dei poliziotti, cerca di prendergli la pistola, ma il poliziotto resiste. La beretta d'ordinanza cade a terra, sotto al sedile. La donna si china e la prende. I poliziotti cercano di bloccarla. Lei cerca di sparare, ma ce l'assicura. e il percussore non scatta. L'altro uomo spara e colpisce il sovrintendente Petro al collo. Un poliziotto risponde con la sua berretta e colpisce al petto l'uomo, che spara ancora e colpisce al fianco il poliziotto. Altri spari, urla, lamenti. La signora che se ne stava da sola corre lungo il vagone. L'altra signora si butta sotto il sedile. Il marito intanto interviene, perché è un poliziotto anche lui, anche se fuori servizio. Poi tutto si ferma, lasciando nel vagone un forte odore di polvere da sparo bruciata. Sembra la scena di un film. Lo sembra, ma non lo è. Per terra, in una chiazza di sangue che si allarga sul pavimento della carrozza, c'è il sovrintendente Petri. Un proiettile gli ha reciso la giugolare, uccidendolo quasi sul colpo. Era veramente una persona... Non so nemmeno come definirla, però era una persona tanto buona. E qualunque problema, diciamo, tu potevi avere, magari c'era sempre una parola di conforto per te e per tutti. Poco distante, tra i sedili, c'è l'uomo che ha sparato, che si lamenta ancora, ma sta morendo anche lui. Accasciato su un sedile, c'è il sovrintendente Bruno Fortunato, che si preme una mano sul fianco ferito da una pallottola. L'altro poliziotto, il vice sovrintendente Giovanni Di Fronzo, ha ammanettato la donna, che cerca ancora di scappare, si divincola, ma mantiene la calma, rimane fredda come una statua. Aveva gli occhi di ghiaccio, diranno i due coniugi. Non perde la testa neppure in commissariato, a Castiglion Fiorentino. Non dice come si chiama, poi a qualcuno sembra di riconoscerla e la chiama per nome, Nadia, e Nadia ammette di chiamarsi così. Nadia Desdemona Lioce. Poi dice un'altra cosa, dice mi dichiaro prigioniero politico, perché non è una delinquente comune quella donna dall'aria triste. Così come non lo è neanche l'uomo che ha sparato a sovrintendente Petri e che si chiama Mario Galesi. Da più di cinque mesi le forze dell'ordine di tutta l'Italia li stanno cercando come i capi delle nuove Brigate Rosse. Mi dichiaro prigioniero politico. Era una frase che non si sentiva più da tanto tempo. Quella sigla però, le Brigate Rosse, quella l'avevamo già vista prima, anche di recente, anche prima di quel treno che corre nelle campagne vicino a Castiglion Fiorentino, come un fantasma, un fantasma che ritorna e che fa paura. La prima volta che la gente si accorge dell'esistenza delle Brigate Rosse è con una foto, la foto di un uomo con due pistole puntate alla tempia. L'uomo si chiama Hidalgo Macchiarini, è un ingegnere ed è un dirigente della filiale di Milano della Sid Siemens, una fabbrica che fa apparecchi elettronici. Il 3 marzo del 1972 è stato rapito da quattro uomini in tuta blu col volto coperto da un passamontagna che l'hanno tenuto in una stanza giusto il tempo per scattargli una fotografia. Due pistole puntate alla testa e un cartello al collo con su scritto Brigate Rosse, Mordi e Fuggi, niente resterà impunito, colpiscine uno per educarne cento, tutto il potere al popolo armato. Solo poche ore, un sequestro lampo che però colpisce molto. La gente comincia a chiedersi ma chi sono queste Brigate Rosse? Una delle due pistole puntate alla testa dell'ingegner Macchiarini era una semiautomatica Browning della Seconda Guerra Mondiale. Apparteneva ad un vecchio partigiano che l'aveva regalata ad un ragazzo di Reggio Emilia che si chiama Alberto Franceschini e che assieme ad altri ragazzi si riuniva in un collettivo che si era staccato dalla FGC e dal Partito Comunista perché li considerava troppo a destra, troppo morbidi. Si riunivano in un appartamento sulla Via Emilia e per questo li chiamavano il gruppo dell'appartamento. Nel tutto bisogna partire da che cos'era diciamo l'Emilia perché io vengo da Reggio Emilia in quegli anni dove chiaramente la cultura comunista era la cultura fondamentale, dominante. c'era tutto un circuito sociale diciamo così che sostanzialmente erano le osterie dove la storia la storia soprattutto veniva raccontata in particolare dalle persone che l'avevano fatta che erano in genere degli ex partigiani e quindi diciamo noi ragazzi venivamo tutti comunque da famiglie comunque di sinistra cioè che i cui genitori o i nonni avevano partecipato alla lotta partigiana e quindi diciamo ci formiamo ci formiamo una cultura cioè diciamo che aveva cioè un'idea storica diciamo così della storia del nostro paese che aveva al centro due punti uno che la resistenza era stata tradita cioè nel senso che la lotta che i contadini gli operai delle nostre parti avevano fatto non era per quel tipo di Italia che ci trovevamo davanti negli anni 60 quindi da una parte c'era quest'idea della resistenza tradita e dall'altra parte c'era l'idea c'era una cultura rivoluzionaria l'idea che era possibile fare una rivoluzione nel nostro paese per rivoluzione pensevamo ad un cambiamento profondo e radicale della vita delle persone anche della vita nostra Franceschini e alcuni altri lasciano Reggio Emilia per andare a Milano lì incontrano altri ragazzi che hanno esperienze molto diverse dalle loro per esempio ci sono alcuni studenti della facoltà di sociologia di Trento come Renato Curcio e Margherita Cagol che vengono dal movimento studentesco dal 68 e sono di formazione cattolica Margherita per esempio una cattolica convinta che fa studi umanistici e suona la chitarra classica si iscrive a sociologia soprattutto perché la facoltà è proprio lì a Trento e non deve allontanarsi dalla famiglia da tutti gli esami in tempo e quando si laurea saluta i professori della commissione a pugno chiuso e due giorni dopo si sposa con Renato Curcio in una chiesetta sulle montagne del Trentino quello stesso pomeriggio invece del viaggio di nozze sono già tutti e due a Milano a partecipare a un'assemblea del collettivo alcuni ragazzi dell'appartamento di Reggio Emilia tre studenti della facoltà di sociologia dell'università di Trento ci sono anche alcuni operai e tecnici della Sid Siemens delegati di fabbrica come Mario Moretti Mario Moretti è nato a Porto San Giorgio nelle Marche ha frequentato la parrocchia e si è diplomato come perito elettrotecnico e poi è andato a Milano a lavorare con una lettera del Vescovo e della Marchesa Casati Stampa Franceschini Curcio Margherita Moretti un giorno d'agosto del 1970 alcuni di loro si riuniscono in un albergo di Pecorile un paesino sull'Appennino a 20 km da Reggio Emilia e cominciano a discutere per decidere cosa? la lotta armata il vero punto di svolta avviene a Pecorile che è un piccolissimo paesucolo in provincia di Reggio Emilia dove lì nell'estate nell'agosto del 17 18 agosto era subito dopo Ferragosto ci riunimmo centinaia di persone che venivano dal CPM da noi e lì discutemmo in maniera chiara e precisa la necessità della scelta della lotta armata cioè della lotta armata cioè della violenza praticata da piccoli gruppi d'avanguardia e questa era sostanzialmente la differenza tra noi e il resto dei movimenti in quella fase cioè per noi era giunto il momento di organizzarci in un certo modo quindi clandestinamente eccetera eccetera e compiere azioni che fossero fuori dal movimento chiaro cioè non erano non so i servizi d'ordine che già esistevano che si muovevano nei cortei eccetera eccetera ma erano azioni che venivano fatte diciamo a freddo è il 1970 sulle strade d'Italia corrono le Fiat 124 le 500 e i Maggioloni la benzina costa 160 lire al litro il pane 230 lire al chilo e per una tazzina di caffè al bar ci vogliono 70 lire la moda impone pantaloni a zampa d'elefante minigonna e stivali al ginocchio l'Italia ha battuto la Germania per 4 a 3 alle semifinali dei mondiali di calcio del Messico ma poi si è fatta battere dal Brasile a Sanremo hanno vinto Claudio Amori e Direanno Celentano con chi non lavora non fa l'amore e in testa li pare c'è Mina con insieme la televisione in bianco e nero e ancora due canali la gente a casa gioca con il rischiatutto di Mike Buongiorno e si turba con l'ombelico scoperto di Raffaella Carrà che balla il Tuka Tuka a Canzonissima Edmondo Bernacca illustra le previsioni del tempo e i bambini vanno a letto dopo Carosello al cinema c'è indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri che vince l'Oscar e quando le donne avevano la coda con Senta Berger e Lando Buzanca in edicola c'è Tex Willer Diabolic Alan Ford e Topolino gli anni tra il 68 e il 70 costituiscono in Italia un passaggio particolarmente significativo e importante si passa cioè da una società di massa a base collettiva il partito la famiglia la classe sociale la chiesa a una società di massa a base individuale questo passaggio è largamente determinato dallo sviluppo dei consumi ha però delle ricadute politiche ideologiche estremamente significative i più sensibili che recepiscono subito questi cambiamenti sono gli studenti il movimento del 68 ma la contestazione si lega molto rapidamente con i movimenti di fabbrica con le lotte operaie e con i rinnovi contrattuali dell'autunno del 69 mentre la società italiana è piena di fermenti il sistema politico italiano è invece paralizzato dal fatto che c'è una sostanziale impossibilità di alternativa il partito di maggioranza relativa alla democrazia cristiana è l'unico partito che possiede le chiavi effettive sia da un punto di vista elettorale ma anche da un punto di vista dei poteri reali e per motivi di politica internazionale di alleanze internazionali il partito comunista non è una vera alternativa di governo possibile si respira un'aria strana in quegli anni un'aria inquieta il 68 sembra essere finito da un pezzo per lasciare il posto ad una torbida inquietudine che alza il livello della tensione da tutte le parti è proprio così che l'hanno chiamata strategia della tensione il 12 dicembre del 1969 nella sede della banca dell'agricoltura di piazza fontana una bomba piazzata da un gruppo di neofascisti uccide 16 persone e ne ferisce 84 nell'autunno del 1970 scoppia a Reggio Calabria una rivolta che durerà quasi un anno e nella notte tra il 7 e l'8 dicembre gruppi armati guidati dal principe Iunio Valerio Borghese tentano un colpo di Stato la strage di piazza fontana secondo me è un evento fondamentale cioè proprio da un punto di vista diciamo psicologico innanzitutto perché ti determinò il clima cioè cambiò radicalmente il clima cioè tutti noi eravamo convinti che la strage di piazza fontana non fosse fatta dagli anarchici da Valpreda ma era un'operazione dello Stato cioè dalla parte reazionaria conservatrice chiamiamola come ci pare insomma quindi comunque un'operazione dello Stato e come tale ci dava la misura no di della profondità dello scontro sociale a cui noi saremmo andati incontro quello è stato l'elemento chiave la spinta vera che ci ha fatto capire che la rivoluzione non poteva essere un pranzo di gala come diceva Mao Zedong chissà dove il sovrintendente Petri in quei giorni Emanuele Petri il poliziotto del treno nel 1970 ha 15 anni e vive a Castiglion del Lago un piccolo paese sulle rive del lago Trasimeno in provincia di Perugia non va a scuola ha smesso presto di studiare per mettersi a lavorare come elettricista ma sa già che a 18 anni quando riceverà la cartolina militare si ruolerà nella polizia volontario come suo padre E Nadia Desdemona Lioce la donna dall'aria triste dove è Nadia in questo momento a scuola in prima media perché ha 11 anni ed è ancora una bambina sta a Foggia dove è nata ed è una ragazzina allegra e tranquilla i compagni della prima F dell'istituto Carducci la chiamano Gigliola Cinquetti per la somiglianza che ha con la cantante le Brigate Rosse probabilmente non sa neanche cosa siano Margherita Cagol invece è già grande ha 25 anni e gli altri la chiamano Mara la compagna Mara dopo il convegno di Pecorile lei, Curcio, Franceschini e altri hanno deciso di fondare un'organizzazione hanno pensato a lungo al nome Brigate come le Brigate Garibaldi della guerra partigiana ma Garibaldi non gli piace è troppo risorgimentale è troppo borghese Rosse meglio Brigate Rosse sostanzialmente ci ponevamo il problema di trovare anche lì un simbolo che come il termine Brigate Rosse ci riconducesse ad una storia a questo punto ad una storia internazionale allora la prima cosa che ci venne in mente era la stella perché ad esempio i vietnamiti avevano la stella i Tupamaros avevano la stella per cui la stella poi in particolare la stella dei Tupamaros che era molto simile alla nostra con al centro però MNT Movimento Tupamaros MNT Movimento Nazionale di Tupamaros noi a questo punto prendemmo la stella cercavamo io e Renato di disegnarla così e ci veniva sempre una stella sghimbescia non diceva mai a fare una stella perfetta poi alla fine abbiamo detto vabbè però sghimbescia ci sembra e la disegnavamo appunto con centolire cioè volevamo fare una cosa che potesse essere disegnabile da tutti questo perché la nostra idea all'inizio era molto spontaneista quella di essere il noi dicevamo appunto la scintilla che infiamma la prateria questo era l'idea nostra iniziale per cui niente nel primo volantino venne fuori questo simbolo che poi ha avuto diciamo così questo tragico dirlo così un successo dal punto di vista del marketing notevole la scintilla che infiamma la prateria per fare cosa? in quel periodo nelle grandi fabbriche ci sono le lotte per il rinnovo dei contratti per le Brigate Rosse il Partito Comunista e il Sindacato sono troppo morbidi la loro linea riformista e suicida per le Brigate Rosse bisogna agire bisogna diventare avanguardia politica armata colpirne uno per educarne 100 iniziano bruciando le auto dei dirigenti delle fabbriche la prima è quella del capo del personale della Sid Simens dieci righe sui giornali il giorno dopo sono nate le Brigate Rosse la notte del 25 gennaio omettono otto bombe incendiarie parcheggiate sotto una fila di autocarri nello stabilimento di lainate della Pirelli ne esplodono soltanto tre ma fanno comunque molti danni volantini lasciati negli spogliatoi delle fabbriche automezzi commerciali bruciati le macchine dei dirigenti loro la chiamano propaganda armata dicono chi è costretto a girare in una 500 usata vede bruciare volentieri una BMW o un'Alfa nei primi anni 70 per quanto riguarda le Brigate Rosse c'è in giro molta confusione molta incertezza molta ambiguità le Brigate Rosse sono ancora Zorro Robin Hood compagni che sbagliano ma questa ambiguità questa incertezza fa sì che abbiano indubbiamente dei referenti in un certo strato intellettuale e in modo particolare in certi ambienti di fabbrica ma la propaganda armata non si ferma soltanto alle cose le Brigate Rosse passano presto ai sequestri lampo dei dirigenti come quello dell'ingegner Macchiarini con quella foto e poi più avanti a Torino un sindacalista della Cisna Bruno Labbate e poi anche il capo del personale della Fiat l'ingegner Ettore Amerio trattenuto per ben otto giorni prima di essere rilasciato in cambio della liberazione di Amerio per spiegarmi subito volevano la fine della cassa integrazione era assumere la Fiat il massimo del potere economico e con forti condizionamenti per così dire anche sul potere politico dell'epoca era una ricerca di collocazione di sé come soggetto politico di livello nazionale alternativo a quelli come dire istituzionali la prima operazione di polizia contro le Brigate Rosse scatta il 2 maggio del 1972 e quasi le distrugge Marco Pisetta è un compagno di studi di Curcio dai tempi dell'università ed è un membro delle Brigate Rosse i carabinieri lo arrestano lui accetta di collaborare rientra nelle Brigate Rosse come infiltrato e al momento opportuno parla scrive un memoriale di 92 pagine con linee politiche strutture nomi un memoriale che poi ritratta dicendo che gli è stato estorto dai servizi segreti in un certo senso è la prima storia delle Brigate Rosse ed è già controversa misteriosa c'è una strana costante nella storia delle Brigate Rosse tutte le volte che vengono duramente colpite quasi distrutte decapitate le Brigate Rosse si riorganizzano e ricominciano a colpire anzi alzano il tiro succede anche dopo l'operazione Pisetta i militanti rimasti in libertà passano in clandestinità significa che spariscono dalla circolazione si procurano documenti falsi un falso lavoro di copertura una falsa identità e così nascosti continuano a colpire però la mia vita di clandestino quel periodo lì era un po' abbastanza dura per quanto mi riguarda per me in questo caso qua era dura per due motivi per due motivi per tanti motivi il primo appunto mi trovavo in una città che non era non ero cresciuto lì per cui era un po' come un'estra comunità cioè un emigrato una persona che si sposta e deve affrontare tutto sia come parli sia come ti atteggi sia come situazione poi c'era un problema anche di carattere cioè vivere clandestinamente con girare con una pistola con documenti falsi quando là se vai a portare la biancheria o la lenzuola alla lavanderia deve dare non il documento falso che ufficialmente sei in carro un altro ancora perché metti che per una cosa o un'altra c'è tutta una confusione anche di nomi avevo 5 o 6 nomi praticamente che utilizzavo per fare delle cose persino nell'edicola non comprare tutti i giornali lì qualcuno si insoschia che compra i giornali 5 o 6 giornali politico uno che si interessa del politico per cui anche quello lì poteva diventare un punto vulnerabile per dirti allora prestavo attenzione anche quello lì prendavano due giornali dell'edicola e due in un altro le brigate rosse si danno una nuova struttura concentrano piccoli gruppi di militanti in quelle che chiamano brigate in una fabbrica o in un quartiere e le riuniscono in colonne una per ogni città a Milano a Torino a Genova nel Veneto eleggono una direzione strategica una specie di assemblea composta da una quindicina di persone per elaborare le linee politiche e per dirigerle un comitato esecutivo formato dai capi di ogni colonna dividono gli obiettivi in fronte fronte logistico per procurare i soldi con le rapine e i sequestri i documenti le autorubate il fronte delle fabbriche e il fronte della lotta è stata la contro rivoluzione anche i militanti si dividono i regolari che vivono in clandestinità gli irregolari che partecipano alle attività delle BR mantenendo in parte una vita normale i fiancheggiatori e i simpatizzanti nelle brigate rosse subito non c'era una donna non c'era un compagno anche sessualmente c'era un problema io non sono mica andato nei frati mi ricordo che l'affrontai questo ragionamento qua in una riunione sulla storia che eravamo a Torino e 5 o 6 compagni che c'era solo la Mara che allora la Mara era la moglie di Corcio cosa facciamo qui andiamo avanti a fare insomma in un collega nel senso non sono in un monastero mi sembrava un po' allora lei ci incoraggiava dicendoci guardate che io sento percepisco che fra un po' di tempo nella nostra linea arriveranno molte donne molti compagni e comunque sia è un argomento che anche se arrivassero poi molti compagni non è che tu ti permetti poi di prendere la prima e dice beh stasera avrei bisogno anche così anche una lice voglio dire lì là perché sia arrivata va bene poi poi in alcuni casi sorti anche all'affietamento che poi non è un lavoro meccanico anzi poi le donne che entravano le brigate rosse erano proprio cattive su questo piano qua proprio perché avevano un'origine femminista non è proprio era l'opposto se pensavamo che la presenza di compagni nell'organizzazione ci facilitava la possibilità di avere delle relazioni addirittura non era proprio così la fase della propaganda armata dicono le brigate rosse è finita bisogna alzare il tiro adesso inizia la fase dell'attacco al cuore dello Stato inizia l'operazione girasole Genova 18 aprile 1974 il dottor Mario Sossi è un magistrato è un sostituto procuratore presso la procura della Repubblica di Genova è un magistrato duro intransigente pubblico ministero in alcuni importanti processi contro estremisti di sinistra negli ambienti extra parlamentari lo chiamano il giudice manette e per lui hanno coniato uno slogan Sossi fascista sei il primo della lista Genova 18 aprile 1974 sono quasi le 10 di sera il dottor Sossi sta tornando a casa dal lavoro ed è a pochi metri dal suo portone quando viene afferrato gettato dentro un furgone colpito con un calcio al torace incatenato e incappucciato con un sacco di iuta attraverso la trama della tela vede solo delle ombre poi sente una voce le hai cercate le Brigate Rosse ora le hai trovate il rapimento del magistrato ha un eco enorme sui giornali di tutta l'Italia altro che 10 righe per l'incendio della macchina di un ingegnere scattano immediatamente le ricerche il ministro dell'interno Paolo Emilio Taviani manda Genova il capo della polizia Zandaloi con centinaia di uomini tra carabinieri e poliziotti elicotteri motovedette e cani lo cercano dappertutto sanno che è ancora vivo perché i brigatisti gli hanno scattato una Polaroid che hanno inviato ai giornali dov'è il dottor Sossi? è rinchiuso in una villa presa in affitto sotto falso nome sulle colline di Tortona una prigione del popolo la chiamano le Brigate Rosse se ne sta chiuso in una stanza di 6 metri quadrati insonorizzata con del polistirolo con uno striscione di stoffa rossa sul muro con sopra una scritta gialla portare l'attacco al cuore dello Stato ad interrogarlo a fargli un processo nel vero senso della parola è Alberto Franceschini c'è un omicidio dove le facce salienti dell'omicidio vengono fotografate io sono il pubblico ministero che deve fare il processo e non mi preoccupo nemmeno lontanamente di avere le fotografie le negative le negative poi era successo che di fatto di fatto quello era disarmato Flores anche l'altro anche l'altro fattorino quello più anziano che quello ha fatto per aggrapparsi poi sono trasparato questo è la politica la politica ha una paura maledetta del fatto che noi ti abbiamo quindi se queste hanno paura vuol dire che tu sai vi giuro che proprio non so di questa faccenda signore proprio che prego di credervi di fronte al rapimento del magistrato la reazione dello stato è contraddittoria fermezza o trattativa prevale la seconda dalla sua prigione del popolo il dottor Sossi lancia un appello al sostituto procuratore che coordina le indagini sul suo sequestro pregoti in assoluta autonomia ordinare immediata sospensione ricerche inutili e dannose e le ricerche cessano in cambio della sua liberazione i brigatisti chiedono il rilascio di alcuni estremisti di sinistra sono i membri di un gruppo armato che si chiama 22 ottobre e che si è reso responsabile tra l'altro della morte di un fattorino Alessandro Floris ucciso durante la rapina di una banca dicono fuori Rossi l'uomo condannato per omicidio o a morte Sossi la magistratura accetta e il 20 maggio 1974 la corte d'assise d'appello di Genova accorda la libertà provvisoria ai membri della 22 ottobre e gli restituisce il passaporto quando il dottor Sossi verrà liberato potranno andarsene il procuratore generale della Repubblica di Genova Francesco Cocco si oppone si oppone il presidente del consiglio Mariano Rumor il ministro degli interni fa circondare il carcere Marassi dalla polizia per impedire l'uscita dei detenuti liberati dalla magistratura che fare? è una situazione di stallo nelle Brigate Rosse si apre un dibattito che le vede divise su due posizioni opposte da una parte brigatisti come Franceschini e Margherita Cagol che vorrebbero liberare immediatamente il dottor Sossi la liberazione dei membri della 22 ottobre dicono è un'utopia lo Stato non potrà mai accettare e infatti si è opposto essere arrivati fino a quel punto per le Brigate Rosse è già un grosso successo politico dall'altra parte ci sono brigatisti come Mario Moretti per lui bisogna uccidere Sossi subito che fare? il dottor Sossi viene liberato la notte del 22 maggio 1974 lo lasciano a Milano su una panchina con in tasca un biglietto del treno vai Mario gli dice Franceschini prima di andarsene metti giudizio dal rapimento di Sossi si ha la percezione di un movimento clandestino armato che persegue obiettivi che non possono essere ammessi e difesi da chi intende difendere le condizioni dei lavoratori e degli operai ovviamente in quegli anni che legano il 74 al 78 al primo rapimento e poi all'omicidio dell'onorevole Moro si consuma definitivamente questa coscienza e anche tutti quegli interrogativi chi sono da dove vengono chi ha interesse ad armarli o a sostenerli e perché lo fanno prendono definitivamente il posto nell'ombra e rimane aperta la coscienza di una irriducibilità tra quell'azione gli interessi del sindacato e gli interessi della classe operaia Nel 1974 Lanciabeta e Citroen DS e gli squaloni come li chiamo a qualcuno corrono sulle strade d'Italia ma non la domenica la domenica non si circola perché c'è l'austerity l'inflazione è arrivata al 13% la benzina costa 300 lire al litro il pane costa 450 lire al chilo e per una tazzina di caffè al bar ci vogliono 120 lire la moda impone camicie dai lunghi colletti aperti sul petto e maglie girocollo aderenti e unisex vanno i jeans chi mi ama mi segua c'è scritto su una pubblicità che fa scandalo la Lazio di Giorgio Chinalia ha vinto il primo scudetto a Sanremo ha vinto Iva Zanichi con Ciao come stai e in testa dei parecci sono E tu? di Claudio Baglioni Bella senza anima di Riccardo Cocciante Anima mia dei Cugini di Campagna e Piccole e Fragile di Drup in televisione c'è la fantascienza dei telefilm di Spazio 1999 è l'ultimo anno di Canzonissima condotto da Raffaella Carrà Cocchi Arenato e Topo Gigio al cinema c'è il giustiziere della notte con Charles Bronson e il padrino parte seconda Federico Fellini vince l'Oscar per il miglior film straniero con Amarconi non c'è solo questo ci sono cortei in cui si grida cento fiori sono sbocciati sono cento gruppi armati e anche beta 36 fascista dove sei e la beta numero 36 è la chiave inglese con cui è stato ucciso Sergio Ramelli un militante di destra negli scontri di piazza ci sono morti a destra e a sinistra pagherete caro pagherete tutto c'è Claudio Varalli del movimento studentesco ucciso da un estremista di avanguardia nazionale c'è Michis Mantacas del movimento sociale ucciso da estremisti di sinistra e c'è Giannino Zibecchi antifascista travolto da una camioneta dei carabinieri e ci sono le stragi come quella del treno Italicus tra Bologna e San Benedetto Valdisambro 12 morti e 105 feriti Milano e quella di piazza della loggia Brescia 8 morti e 103 feriti l'11 settembre del 1973 invece in Cile il governo socialista e democratico del presidente Salvatore Allende è stato rovesciato da una giunta militare guidata da generale Augusto Pinochet un colpo di stato rapido e sanguinoso che da quel momento fa entrare nel vocabolario comune la parola golpe nel 1974 si inizia a intervedere la possibilità dello sblocco del sistema politico ci sono fenomeni episodi sia internazionali sia interni che segnano l'apertura di nuove prospettive e di nuove possibilità negli Stati Uniti cambia l'amministrazione dopo lo scandalo Watergate si liberano alcuni paesi come la Grecia e il Portogallo dalle antiche e più recenti dittature sul piano interno il referendum sul divorzio indica una maggioranza del paese che intende proseguire su una strada del rinnovamento della società italiana in questa situazione particolarmente rilevante diventa l'elaborazione e la proposta del Partito Comunista in modo particolare di Enrico Berlinguer che anche sulla base del drammatico colpo di Stato in Cile ipotizzava la possibilità di compromesso storico cioè la possibilità che le grandi forze nazionali di massa del paese le masse cattoliche le masse socialiste e comuniste potessero contribuire attraverso i loro partiti alla gestione del paese rinnovando sostanzialmente le forme e i modi del governo Dov'è Nadia in questo momento? È ancora a Foggia con i genitori a 15 anni e si è iscritta al liceo classico Vincenzo Lanza delle Brigate Rosse probabilmente non sa ancora molto di certo non immagina neppure quel treno sul quale salirà quasi 30 anni dopo E dov'è il sovrintendente Petri in questo momento? È nella polizia come ha sempre pensato come suo padre Ha fatto tutto il corso per allievi agenti alla scuola di polizia di Trieste ha preso i gradi ed è stato assegnato al reparto Celere di Milano in servizio di ordine pubblico come quasi tutti Poi l'hanno spostato l'hanno assegnato alla questura di Roma Agente semplice Petri Emanuele in servizio presso l'autocentro Il generale Carlo Alberto dalla Chiesa invece è un carabiniere e nel 1974 è già al comando della prima brigata Carabinieri di Torino Ha 53 anni e fino a quel momento era stato in Sicilia a Corleone come tenente a combattere contro il bandito Giuliano Poi a Palermo come colonnello a comandare la legione dei carabinieri che indaga tra l'altro sulla scomparsa del giornalista Mauro De Mauro È un carabiniere esperto il generale dalla Chiesa efficiente e riservato e anche duro Nel maggio del 74 proprio durante il sequestro Sossi nel carcere di Alessandria c'è una rivolta e alcuni detenuti prendono molti ostaggi Il generale coordina l'assalto al carcere 7 morti e 14 feriti Intanto bisogna dire che Dalla Chiesa era un capo un capo esigente durissimo nella sua azione di comando di direzione ma diciamo che era anche un uomo anche dolce anche con delle qualità umane eccezionali molto esigente soprattutto dopo l'intervento che come se venisse preso da una furia di operativa incrollabile per cui i problemi per noi nascevano dopo l'intervento in cui si abbandonava richieste di tutti i tipi e con una intensità e con una veloci pretendeva riscontri con una velocità talmente forte che veramente Dalla Lotta ci metteva in difficoltà ricordo una volta Torino emblematico che a fronte di una nostra difficoltà di accertamento improvvisamente prese un maresciallo e uscì lui stesso disarmato con un maresciallo disarmato per andare lui stesso a fare un accertamento supposto appena arriva a Torino il generale Dalla Chiesa organizza un nucleo che ha proprio come scopo principale quello di indagare sulle Brigate Rosse comincia una stagione che produce risultati importantissimi perché questi nuclei utilizzano al massimo i due valori fondamentali che sempre quando si tratta di crimine organizzato quale che sia la sua articolazione terrorismo o mafia consentono di farcela consentono di vincere è solo la centralizzazione dei dati tutto quello che si sa raccolto in un unico motore di elaborazione di questi dati di modo tale che non sfugga nessun particolare nessuna possibile pista o spunto di indagine e la specializzazione uomini che fanno soltanto questo e che facendo soltanto questo affinano sempre di più le loro conoscenze e quindi penetrano penetrano sempre più in profondo per quanto riguarda la conoscenza per quanto riguarda la percezione dell'effettività della realtà della concretezza di questi fenomeni di queste problematiche creare un pool di magistrati e di investigatori specializzati è un'idea che qualche anno più tardi verrà in mente ad un altro magistrato che la porterà in Sicilia nella lotta contro la mafia quel magistrato si chiama Antonino Caponnetto ma questa è un'altra storia a Torino il generale dalla chiesa sperimenta il suo metodo investigativo primo analizzare il contesto dentro il quale sono avvenuti i fatti più che i singoli episodi invece di correre dietro ad ogni singola azione dei brigattisti metterle tutti assieme analizzare le relazioni capire l'ambiente dentro il quale sono avvenute secondo non fermarsi all'arresto di un singolo brigattista ma cercare di capire l'intera struttura terzo analizzare attentamente i documenti le rivendicazioni i volantini delle brigate rosse cercare di capire come pensano i brigattisti quarto non tralasciare niente i brigattisti hanno bisogno di covi in cui nascondersi allora bisogna analizzare tutte le case che hanno le caratteristiche giuste batterle tutte individuare gli effettuari gli inquilini i proprietari e poi c'è fratello Mitra Silvano Girotto ha 35 anni e una biografia da romanzo figlio di un maresciallo dei carabinieri è stato nella legione straniera si è fatto frate francescano col nome di padre Leone è andato in Sud America a combattere con la guerriglia ed è per questo che lo chiamano fratello Mitra beh cambio casa quasi ogni giorno cambio di nome ogni mese praticamente mi nasconde la gente vivo nel seno di questo popolo che amo tornato in Italia decide di collaborare con i carabinieri perché dice lui ha capito che quelli delle Brigate Rosse sono dei ragazzini sono soltanto dei borghesi che vogliono giocare alla guerra e che con le loro azioni insensate possono fare più male che bene al movimento operato io non sono contro la lotta armata sicché semplicita così io sono contro manifestazioni di questo tipo fuori del momento in cui sono necessari e quindi il momento scatenante è qui non c'è stato nessun cambiamento di linea politica da parte mia ancora oggi se io tornassi in Latino America riprenderei il Mitra perché so che purtroppo laggiù non c'è altra via ma è disperante vedere che anche nel mio paese si vuol correre verso situazioni di quel genere quando sono ancora evitabili Silvano Girotto si infiltra nelle Brigate Rosse incontra per la prima volta Curcio e Franceschini il 28 luglio 1974 alla stazione di Pinerolo loro non si fidano molto di quello strano personaggio però lo incontrano ancora altre due volte intanto fratello Mitra si segna nomi date e luoghi il prossimo incontro è per l'8 settembre ci dovranno essere Curcio Franceschini e Mario Moretti due giorni prima dell'incontro però arriva una telefonata a Moretti vogliono arrestarli tutti Moretti non va all'incontro però non riesce ad avvertire Curcio e Franceschini Renato Curcio viene chiuso nel carcere di Casale Monferrato non è un carcere di massima sicurezza ci sono solo tre cancelli per arrivare alle celle e non ci sono neanche tante guardie sono le 4 del pomeriggio del 18 febbraio 1975 una donna bionda suona al portone del carcere dice di avere un pacco per un detenuto e le guardie le aprono ma quando è dentro la donna tira fuori un mitra è Margherita Cagol che fa entrare altri 4 brigatisti che vanno su fino alle celle si prendono Curcio e se lo portano via e se lo portano via si erano messi d'accordo da tempo con lettere scritte con l'inchiostro simpatico e anche un telegramma il pacco è arrivato tutto da rifare dirà l'allora sostituto procuratore Giancarlo Caselli alla notizia della fuga di Curcio Curcio in libertà collabora alla stesura della prima risoluzione strategica delle Brigate Rosse una specie di piano di battaglia secondo le Brigate Rosse il nemico da combattere sarebbe lo Stato imperialista delle multinazionali il SIM di cui lo Stato italiano basato sul potere dell'ADC e sulla complicità del Partito Comunista e dei sindacati sarebbe soltanto un'emanazione locale per combatterlo bisogna radicalizzare l'organizzazione della lotta armata il Partito Comunista restò nella legalità non ricorse a forme insurrezionaliste nel 1947 quando uscì dal governo e fu criticato per questo nel 1948 dopo l'attendata a Togliatti ci fu uno sciopero molto duro con morti e ci furono conati insurrezionalisti che i comunisti stessi frenarono e lo frenò Togliatti stesso che ferito a morte disse sulla lettiga attenzione calma e lo sviluppo della battaglia democratica su questo terreno fu netta, chiara e ininterrotta è chiaro che le Brigate Rosse consideravano questa linea una linea di cedimento a quello che chiamavano loro il SIM il sistema imperialista mondiale e allo stato borghese e che questa strada intrapresa dal Partito Comunista rifiutava quella che era stata considerata la scelta diciamo così dei comunisti nel 21 che doveva essere una scelta insurrezionalista infatti nel 21 il Partito Comunista nacque con la parola d'ordine faremo come la Russia ma Togliatti nel 44 quando tornò in Italia il primo discorso che fece a Napoli disse non faremo come la Russia quindi la situazione è cambiata le Brigate Rosse se ne sono accorte tardi la fuga di Curcio è indubbiamente una vittoria ma l'euforia delle Brigate Rosse dura poco 5 giugno 1975 di mattina c'è una cascina in località Spiotta d'Arzello sulle colline del Monferrato è una costruzione in pietra grezza che si affaccia su un piazzale con un pozzo e un forno per cuocere il pane è un bel posto isolato tranquillo è lì che attorno alle 11.30 arrivano i carabinieri del generale dalla chiesa il giorno prima c'era stato un sequestro avevano rapito l'industriale Vallarino Gancia il generale dalla chiesa è convinto che siano state le Brigate Rosse e che la prigione si trovi da quelle parti il tenente Umberto Rocca ha già fatto 4 perquisizioni e quella cascina in località Spiotta è la quinta in quel momento senti la voce del mio maresciano che mi gridava attento attento avevo il tempo di voltarmi e vedi una cosa rossa che era una bomba a mano che volava verso di me istintivamente alzai il braccio sinistro questa bomba mi colpì in pieno il gomito sinistro e mi amputò il braccio fu la mia fortuna perché il calore della bomba chiuse i vasi sanguigni per cui non morì disanguato non cadi per terra sparai con l'M1 in direzione della finestra si concluse il tutto con un mio puntato che rimase ferito gravemente e morì sei giorni dopo l'ospedale e sul campo diciamo rimase una donna la donna che è rimasta uccisa nel conflitto a fuoco è Margherita Cagol la compagna Amara Renato Curcio viene arrestato poco tempo dopo il 18 gennaio 1976 a Milano dopo una sparatoria che dura almeno 20 minuti nei giorni seguenti finiscono dentro altri brigatisti tanti quasi tutto il nucleo storico ne restano in libertà soltanto una quindicina sparsi tra Torino Genova e Milano di questi il più autorevole è Mario Moretti sempre sfuggito all'arresto sembra tutto finito tanto che proprio mentre si sta istruendo il primo processo alle Brigate Rosse viene deciso di ristrutturare in pratica smantellare i nuclei antiterrorismo della polizia del questore Santillo e dei carabinieri di Dalla Chiesa e anche questo riorganizzare completamente un apparato che funziona e che potrebbe funzionare ancora sembra una strana costante della nostra storia e non soltanto della lotta le Brigate Rosse ricordo che un giorno il generale della Chiesa venne da me combinazione proprio da me e mi disse giudice stanno per ristrutturare il nucleo e voi pensate che abbiamo lavorato bene io non sapevo neanche se stesse parlando proprio sul serio perché era una domanda assolutamente rettorica avevano lavorato non soltanto bene avevano lavorato benissimo e la mia risposta è stata questa dice allora siccome ci vogliono ristrutturare e non mi sembra una cosa giusta se lo ritenete opportuno fate qualcosa aveva ragione ovviamente il generale della Chiesa pensare a una ristrutturazione di una struttura così importante e vincente non era molto comprensibile ma fu la nostra conclusione noi facciamo i magistrati queste sono decisioni che appartengono alla competenza dell'esecutivo non ci possiamo entrare le Brigate Rosse sembrano battute e di nuovo le Brigate Rosse si riorganizzano dei membri del gruppo storico rimasti in libertà Mario Moretti è sicuramente l'esponente dell'ala più dura e militarista quella più intransigente e ostinata convinta della lotta all'ultimo sangue contro lo Stato qualcosa a cui sacrificare tutto le amicizie gli affetti la stessa vita quando lavorava a Milano alla Sid Siemens Mario Moretti aveva messo su famiglia con una moglie e un figlio li lascia per dedicarsi completamente alla lotta armata è lui il capo delle Brigate Rosse non esiste il capo delle Brigate Rosse non è mai esistito non sono io comunque non sono io questo capo non esiste il capo delle Brigate Rosse erano i dirigenti che ovviamente è una struttura centralizzata strutture diversificate ma non non ha rapporti gerarchici al suo interno le Brigate Rosse si riorganizzano e alzano il tiro cominciano ad uccidere era già successo prima quasi per errore ma non per questo in maniera la meno drammatica e feroce il 17 giugno 1974 a Padova i brigatisti della colonna Veneta entrano nella sede provinciale dell'MSI per rubare dei documenti dovrebbe essere vuota e invece dentro ci sono due attivisti Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci i brigatisti li uccidono tutti e due con Francesco Cocco invece il procuratore generale della Repubblica di Genova che si era opposto alla liberazione dei membri della 22 ottobre durante il sequestro Sossi con lui è diverso quando esce dall'ufficio per andare a mangiare quell'8 giugno del 1976 il procuratore generale Cocco non immagina che tra pochi minuti diventerà un eroe non lo immaginano neppure gli uomini della sua scorta il brigadiere il brigadiere della polizia Giovanni Saponara lo sta accompagnando al portone su per una stradina stretta nella parte vecchia di Genova quando tre uomini armati di pistola di una mitraglietta Scorpion gli sparano alle spalle ammazzando sia lui che il procuratore intanto altri due brigatisti si sono avvicinati all'auto da cui il procuratore è appena sceso e inchiodano al sedile il suo autista l'appuntato dei carabinieri Antioco degli Anna non era mai successo non era ancora successo che le Brigate Rosse colpissero in quel modo con quella ferocia e quella precisione è iniziata la campagna delle Brigate Rosse contro uno dei poteri dello Stato la magistratura perché nel frattempo è successo qualcosa è iniziato il processo alle Brigate Rosse il 17 maggio 1976 si è aperto a Torino il processo alla banda armata denominata Brigate Rosse gli imputati di vari reati sono una cinquantina fisicamente nella gabbia degli imputati del Tribunale di Torino ce ne sono una trentina tra cui Alberto Franceschini Renato Curcio e Tonino Paroli e la prima volta che si cerca di cominciarlo questo processo è nel 76 un paio di udienze e le Brigate Rosse a Genova uccidono il procuratore generale Cocco e gli uomini della sua scorta Saponare Deiana è un omicidio che non può non essere immediatamente ricollegato al processo di Torino la ricaduta sul processo di Torino che sta processando gli autori del sequestro Sossi è immediata di fatto il processo di Torino si blocca di fronte al processo che si sta celebrando la strategia delle Brigate Rosse è molto semplice impedire che si faccia i brigatisti lo dicono chiaramente si dichiarano prigionieri politici rifiutano di difendersi di fronte allo stato borghese e imperialista perché la rivoluzione non si processa se un imputato rifiuta di nominare un difensore di fiducia lo stato gliene assegna uno d'ufficio e allora i brigatisti minacciano gli avvocati dicono che li considereranno collaborazionisti e vale anche per i cittadini estratti a sorte per la giuria popolare con tutto quello che ciò comporta di fronte al movimento rivoluzionario sono parole contorte espresse nel complicato gergo politico delle Brigate Rosse ma dopo la morte del procuratore generale Francesco Cocco hanno un significato ben preciso significano morte di fatto il processo si ferma per un anno e si prova a riprenderlo nel 77 un anno dopo questa volta però non si riesce a fare neanche un'udienza perché le Brigate Rosse avevano sempre sostenuto in aula nei loro volantini nelle loro risoluzioni strategiche che la rivoluzione non si processa la lotta armata non si può condannare e avevano minacciato di rappresaglia tutti coloro che avessero in qualche modo contribuito invece alla celebrazione di questo processo che non volevano assolutamente non volevano c'è un uomo che si chiama Fulvio Croce ha 76 anni e da più di 50 fa l'avvocato presso il foro di Torino è presidente dell'ordine degli avvocati della città e tocca anche a lui risolvere quella situazione di stallo lo fa nominando 10 difensori d'ufficio e mettendosi anche lui nella lista è un uomo tranquillo l'avvocato Croce un piemontese metodico che tutti i giorni lascia lo studio in città per tornare a pranzare nella sua villetta in collina con la moglie e il cane chissà se lo immagina che sta per diventare un eroe forse sì forse non vorrebbe ma proprio perché è un piemontese metodico e tranquillo che da tanti anni serve la giustizia non può fare diversamente il pomeriggio del 28 aprile 1977 l'avvocato Croce è appena tornato dal solito pranzo in famiglia ha parcheggiato l'auto nel cortile del palazzo dove ha lo studio quando si sente chiamare da un uomo l'avvocato si volta e quello gli spara due colpi di pistola poi altre due in testa e tre a petto nessuno può fare niente perché ci sono altre due persone un uomo e una donna che tengono sotto tiro il cortile due giorni dopo quattro giurati popolari su otto presentano un certificato medico per sindrome depressiva e lasciano l'incarico in una intervista viene chiesto al poeta Eugenio Montale se una volta estratto a sorte avrebbe accettato di far parte di una giuria popolare credo di no dice Montale sono un uomo come tutti gli altri non si può chiedere a nessuno di fare l'eroe le brigate rosse fanno paura succede un fatto per Torino sconvolgente Torino è una città con forti fortissime tradizioni di lotta su tutti i versanti contro il fascismo per la democrazia per le libertà sindacali per le libertà sindacali per i diritti in generale questa Torino sembra che non ci sia più perché non si trovano sei cittadini sei dico sei non sessanta non seicento sei cittadini disposti a fare giudici popolari sul tavolo del presidente della corte dell'assise Guido Barbaro si accumulano i certificati medici di coloro che vengono estratti a sorte e dovrebbero fare i giudici popolari tutti mandano un certificato medico e su ogni certificato c'è scritto sindrome depressiva la traduzione in termini clinici della paura in quel momento i terroristi hanno vinto il processo viene rinviato per quasi due anni e tutte le volte che si fa un passo avanti succede qualcosa il processo sta per riaprirsi l'inizio è previsto per marzo il 14 febbraio 1978 a Roma viene ucciso il consigliere di Cassazione Riccardo Palma 9 marzo 1978 il processo riparte il giorno dopo a Torino il maresciallo di pubblica sicurezza Rosario Berardi sta aspettando il tram per andare a lavorare quando tre uomini e una donna gli sparano tre colpi nella schiena quando è a terra gli sparano altri quattro colpi in faccia l'11 aprile 1978 sempre a Torino viene ucciso Lorenzo Cutugno agente di custodia presso il carcere Le Nuove il 20 dello stesso mese a Milano viene ucciso Francesco Di Cataldo maresciallo degli agenti di custodia del carcere di San Vittore il 21 giugno 1978 la giuria entra in camera di consiglio quel giorno il commissario Antonio Esposito dell'antiterrorismo di Genova scende dall'autobus e si trova davanti due uomini che gli sparano addosso 12 colpi di pistola nessuno di loro probabilmente pensava che sarebbe diventato un eroe anche se forse lo avevano messo nel conto quando si erano arruolati sembra che i terroristi abbiano vinto ma non è così piano piano la città e i sindacati si mobilitano ci sono assemblee in cui la gente si riunisce per parlare all'inizio sono quasi vuote ma poi la gente arriva e alla fine sono sempre piene il processo nonostante tutto va avanti e arriva in fondo e sul processo di Torino le Brigate Rosse concentrano un volume di fuoco spaventoso eppure questa volta il processo finisce e finisce per giudizio assolutamente unanime nel rispetto più assoluto non soltanto delle regole ma anche della identità politica dei detenuti il processo si conclude questa volta la giuria popolare si forma grazie anche al coraggio di tanti cittadini ricordo tra gli altri ma perché è più nota ma oltre ai cittadini comuni che ebbero lo stesso identico coraggio Adelaide Aglietta Adelaide Aglietta segretaria del partito radicale riceve la chiamata a sorteggio per far parte della giuria accetta dando anche un forte segnale politico in quanto segretaria di partito e si presenta in aula non ho quindi avuto esitazioni nel comprendere quello che dovevo fare come tutti come donna come madre ho avuto e potrò avere momenti di dubbio e di paura penso che il coraggio consista nel superare la paura non nel provarla Contemporaneamente le Brigate Rosse lanciano una campagna contro i giornalisti con lo scopo di disarticolare la funzione contro rivoluzionaria svolta dai grandi media lanciare una campagna disarticolare nel gergo dei brigatisti significa sparare c'è un termine che si usa in quegli anni gambizzare significa sparare alle gambe sembra poco sembra meno rispetto allo sparare in testa al cuore per uccidere ma non è vero non è poco un proiettile in una gamba fa male rompe le ginocchia frantuma le ossa rende storpi e invalidi per tutta la vita il primo giugno 1977 a Genova le Brigate Rosse sparano alle gambe a Vittorio Bruno vice direttore del secolo XIX il giorno dopo il 2 giugno gambizzano Indro Montanelli fondatore e direttore del giornale il giorno dopo ancora a Roma è la volta di Emilio Rossi direttore del TG1 poi alzano il tiro io stavo lavorando io a quell'epoca ero un redattore della casa editrice in Audi ero nell'intervallo del pranzo ero in un ufficio però ero tornato in ufficio dopo aver mangiato e ho avuto la telefonata di un parente che mi ha detto di andare alle molinette perché mio padre era stato colpito e sono andato immediatamente non lo usavo la bicicletta ma anche adesso e sono arrivato quindi direi un'ora dopo fosse l'attentato mia padre stava ritornando a casa per il pranzo quindi è stato colpito intorno all'una e mezza io verso le due e mezza più o meno sono arrivato alle molinette insomma mio padre era già nella stanza di rianimazione Carlo Casalegno ha 61 anni ed è vice direttore della stampa di Torino tiene una rubrica sul giornale che si chiama Il nostro Stato e che si occupa di argomenti politici e ha parlato spesso anche delle Brigate Rosse per questo il direttore Arrigo Levi lo va a prendere con la sua scorta per portarlo in ufficio l'ultimo articolo della sua rubrica si intitola Terrorismo chiusura dei covi Quel 16 novembre però esce prima ed esce da solo ha da fare ha bisogno della sua macchina non può approfittare della scorta del direttore devono averlo seguito perché quando arriva a casa trova i brigatisti ad aspettarlo nell'androne davanti all'ascensore gli sparano quattro colpi in faccia Carlo Casalegno resta 13 giorni a lottare tra la vita e la morte poi il 29 novembre muore Per quanto riguarda il rischio il rischio non solo lui stesso ma tutte le persone dotate di un briciolo di intelligenza sapevano che era sono perfettamente convinto che fosse il giornalista più esposto d'Italia ma certamente uno dei più esposti di questo lui era perfettamente consapevole e ne eravamo tutti consapevoli per quanto riguarda il suo atteggiamento personale era pacifico che una persona non si tira indietro dal proprio lavoro perché rischia questo è stato anche proposto di passare per un po' a fare dei commenti non strettamente politici lui ha semplicemente alzato le spalle il coraggio personale è una cosa che se da un abbondio dicevano uno non se lo può dare per lui non c'era bisogno di darselo perché ce l'aveva è il 1977 la benzina costa 500 lire al litro l'inflazione è salita al 18% non ci sono più spiccioli e girano centinaia di mini assegni da 150 lire in testa alle classifiche ci sono ti amo di Umberto Tozzi alla fiera dell'est di Angelo Branduardi I feel love di Donna Summer e il triangolo di Renato Zero in tv danno mistero buffo di Dario Fo Ligabue con Flavio Bucci disco ringa Domenica Inn Gesù di Nazareth e Portobello con Enzo Tortora al cinema ci sono Io e Enni di Woody Allen incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg e la febbre del sabato sera le sigle dei gruppi armati operanti in Italia sono salite a 91 si sono aggiunti il collettivo politico per il potere operaio le brigate comuniste i proletari armati per il comunismo e prima linea il movimento del 77 che di nuovo come quello del 68 dalle università scende nelle piazze di Milano di Roma di Bologna e di molte altre città è un movimento di contestazione di forte contestazione una contestazione spesso violenta quando il leader della CGL Luciano Lama cerca di tenere un comizio durante l'occupazione dell'università di Roma il servizio d'ordine del sindacato viene travolto e Lama è costretto ad andarsi che cosa intendete fare voi per rientrare all'università e restare più in contatto con queste forme di lotte ma noi ci siamo all'università siamo nettamente la forza maggioritaria anche dentro l'università sono mesi di scontri e tensioni e ai cortei da una parte e dall'altra si spara a Bologna muore Francesco Lorusso di lotta continua ucciso da un carabiniere a Roma muore l'agente di polizia Settimio Passamonti il 12 maggio muore a Roma la militante radicale Giorgiana Masi uccisa da un proiettile vagante in una manifestazione in cui sparano anche alcuni poliziotti in borghese il 14 maggio viene ucciso a Milano il sotto ufficiale di polizia Antonino Custra molte frange del movimento del 77 diventano serbatoi di militanti per i gruppi della lotta armata ma il movimento non è soltanto questo è anche un movimento in gran parte pacifista caratterizzato da grande creatività e ironia come quella degli indiani metropolitani o delle radio libere come Radio Alice a Bologna o Radio Auto a Cinisi in Sicilia la radio di Peppino Impastato ucciso dalla mafia Dov'è il sovrintendente Petri nel 77? Non è nelle piazze calde a fronteggiare cortei in cui si grida attento poliziotto è arrivata la compagna P38 e a Firenze in servizio presso la questura si è anche sposato da un anno e Nadia sempre a Foggia sempre al liceo classico Vincenzo Lanza in seconda di classi separate i maschi da una parte le femmine dall'altra è una bella ragazza molto socievole molto allegra molto attenta a quello che succede è femminista contesta la famiglia si occupa di politica come tanti ha un fidanzato che frequenta un collettivo marxista-leninista a Foggia nella parte vecchia della città e comincia a frequentarlo anche lei delle Brigate Rosse sicuramente ha già sentito parlare le Brigate Rosse alzano il tiro vogliono portare l'attacco al cuore dello Stato e per farlo devono andare lì dove si trova a Roma a Roma Mario Moretti c'era già venuto nel 1975 assieme ad altri brigatisti avevano preso in affitto un appartamento in via Gradoli numero 96 via Gradoli ricordiamocelo perché sarà importante da lì avevano contattato militanti di altri gruppi che già praticavano la lotta armata come le formazioni armate per il comunismo per un po' non succede niente poi i gruppi si sciolgono alcuni dei militanti confluiscono nelle Brigate Rosse e nasce la colonna romana cominciano con una serie di piccoli attentati come l'incendio dell'auto di un consigliere DC di Centocelle poi feriscono con sette colpi di pistola l'ispettore generale del Ministero di Grazia e Giustizia Vittorio Traversi intanto la colonna romana si rafforza e quando ritiene di essere pronta le Brigate Rosse decidono di lanciare la campagna di primavera in ballo infatti c'è qualcosa di molto grosso c'è l'operazione Fritz a Roma c'è un uomo che gira per ferramenta e negozi specializzati in insonorizzazioni facendosi fare preventivi per sbarre inferiate e pannelli antirumore niente di strano è un ingegnere l'ingegnere Altobelli e sta mettendo su casa in via Montalcini numero 8 interno 1 una palazzina dalle parti di via della Magliana non vicina a bar istituti magazzini luoghi pubblici in genere priva di portineria e situata in una strada aperta che possa essere facilmente controllata come indicano accuratamente le norme di sicurezza e stile di lavoro delle Brigate Rosse perché l'ingegnere Altobelli non è un vero ingegnere e non si chiama neanche Altobelli ma Gulliver e neanche Gulliver che è il nome di battaglia il suo vero nome è Germano Maccari e fa parte della colonna romana delle Brigate Rosse Germano Maccari Gulliver ha il compito di costruire una prigione del popolo in quell'interno 1 del numero 8 di via Montalcini una stanza segreta dietro una parete di cartongesso coperta da una libreria con dentro una brandina un tavolino e un gabinetto chimico di quelli da campeggio deve nascondere una persona una persona molto importante Germano Moro perché Moro appunto nella loro visione utopistica e fasulla del mondo rappresenta quello che unisce il partito della rivoluzione al partito della conservazione quindi il più pericoloso perché se i due partiti di governo si mettono d'accordo il sogno della rivoluzione scompare completamente la mattina del 16 marzo 1978 la signora Ileana Leonardi si sveglia presto a svegliarla è stato il marito Oreste Leonardi che si è alzato per andare a lavorare a svegliarla le ha fatto il caffè come tutte le mattine e glielo ha portato perché la signora Ileana si alza più tardi e può rimanere a letto un altro po' lo sente che si muove nella stanza che apre l'armadio e allora gli chiede cosa stia facendo sta cercando dei proiettili per la sua pistola niente di strano suo marito è un maresciallo dei carabinieri e da tempo fa la scorta ad un importante uomo politico il presidente della democrazia cristiana Aldo Moro portare la pistola per lui è un dovere la mattina trascorre tranquilla come al solito la signora Ileana sbriga le faccende suona anche il telefono e il marito è davanti all'abitazione del presidente Moro in via trionfale 79 le dice che ha dimenticato qualcosa ma è costretto a interrompere subito Ileana le dice ti devo lasciare sta scendendo il presidente la signora Ileana non lo sa che quella è l'ultima volta che sente la voce di suo marito lei non lo sai probabilmente neppure lo vorrebbe che sta per diventare la vedova di un eroe lo chiamano giudo il maresciallo Leonardo perché è un esperto di arti marziali ha 52 anni e da 15 fa la scorta al presidente Moro ma quella mattina non riesce a fare niente così come non riesce a fare niente l'appuntato dei carabinieri Domenico Ricci che siede al volante della 130 non blindata assegnata al presidente e che da 20 anni è il suo autista di fiducia neanche gli altri uomini della scorta riescono a far niente l'agente di polizia Giulio Rivera e il brigadiere Francesco Zizzi che al suo primo giorno di lavoro nella scorta del presidente vengono inchiodati nell'alfetta che segue la 130 di Moro l'agente Raffaele Iozzino fa appena in tempo ad uscire a sparare due colpi prima di essere ucciso ecco la macchina con i corpi i corpi degli agenti che facevano parte della scorta dell'onorevole Moro coperti da un telo sono due uomini sulla 130 un altro corpo è sulla macchina che seguiva i carabinieri stanno facendo i rilievi sono quattro morti mi dice più un ferito mi dice un collega e l'onorevole Moro è stato rapito e sembra mi dice ancora questo collega che ringrazio sembra che sia stato un ferito e l'onorevole Moro l'azione è durata soltanto tre minuti dalle 9.02 alle 9.05 sono stati sparati 92 colpi che hanno ammazzato cinque persone il presidente Moro invece è illeso è stato trascinato fuori dalla sua auto portato lontano infilato in una cassa bendato quando gli tolgono la benda si trova di fronte un uomo col volto coperto dal passamontagna presidente gli dice l'uomo ha capito chi siamo ho capito risponde Moro tutti sanno che Aldo Moro rappresenta un bene prezioso per il nostro partito l'auspicio è che possa essere messa in atto ogni azione capace di far fallire lo scopo di questa criminosa e criminale attività non siamo di fronte alla lotta di una parte pur piccola di un popolo contro un'altra parte non è così siamo di fronte a un pugno di professionisti del terrorismo che si accanisce contro le istituzioni e le libertà nostre siamo di fronte a un piccolo gruppo di assassini che è attenta alle istituzioni della democrazia italiana subito dopo il voto il Parlamento non si conceda vacanze ma sia immediatamente chiamato ad approvare una legge eccezionale contro il terrorismo che la legge eccezionale contro il terrorismo comporti il ripristino della pena di morte per i delitti particolarmente efferati e l'applicazione del codice penale militare nelle zone e nei momenti di emergenza dov'è il presidente Moro? lo cercano tutti dappertutto ogni giorno ci sono in attività quasi 2000 uomini tra carabinieri polizia esercito e guardia di finanza solo a Roma ci sono 32 posti di blocco dove è Moro? il presidente è in via Montalcini numero 8 interno 1 nella stanzetta nascosta dietro la libreria ci è arrivato 25 minuti dopo l'agguato e ci resterà 55 giorni sorvegliato da Prospero Gallinari Germano Maccari e Ana Laura Braghetti Mario Moretti lo interroga quasi quotidianamente registra le sue dichiarazioni su un magnetofono Philips poi visto che è troppo lungo sbobinarle lascia che sia il presidente Moro a scriverle direttamente dai covi delle brigate rosse sparse in tutta Italia escono i comunicati delle BR dal numero 1 che contiene anche la foto del presidente Moro al numero 9 dal covo di via Montalcini invece escono le lettere che il presidente Moro scrive alla famiglia alla moglie Eleonora al segretario della DC Benigno Zaccagnini al ministro degli interni Francesco Cossiga a Flaminio Piccoli a Bettino Craxi a Giulio Andreotti al presidente della Repubblica Giovanni Leone a Papa Paolo VI sono lettere disperate e commoventi soprattutto quelle in cui si rivolge a Luca il nipote di pochi anni ma ci sono anche delle lettere molto critiche nei confronti di alcuni destinatari dello Stato e della democrazia cristiana di nuovo infatti lo Stato si è diviso tra chi vuole trattare e chi no tra il fronte della fermezza formato dalla quasi totalità della democrazia cristiana e del partito comunista e il partito della trattativa formato soprattutto dal partito socialista di Craxi dalla sinistra extra parlamentare e da alcune personalità laiche e cattoliche il PC diceva aveva tutto l'interesse politico di dimostrare con i fatti che era un partito delle istituzioni un partito che stava con lo Stato democratico un partito che non aveva nessuna incertezza su questa scelta e un partito che non aveva nessuna incertezza nelle contrapporse al terrorismo c'erano anche altri motivi il motivo diciamo dovuto questa scelta anche al fatto che nel gruppo dirigente del partito comunista c'erano ancora uomini che avevano fatto tanti anni di carcere che avevano fatto la resistenza penso a Giancarlo Paglietta a Giorgio Amentola Arturo Colompi e altri i quali non accettavano il principio della trattativa come una concessione da chiedere al nemico succedono anche cose strane durante il sequestro del presidente Moro c'è un gruppo di professori universitari vicini alla democrazia cristiana che fa una seduta spiritica durante la quale lo spirito di Don Sturzo rivelerebbe il luogo in cui è nascosto il presidente Moro Gradoli qualunque cosa sia la notizia viene presa sul serio e il luogo viene individuato nel paesino di Gradoli vicino al lago di Bolsena ma laggiù non c'è niente siamo sicuri che a Roma non ci sia una via a Gradoli in cui sia più probabile che possa esserci qualche cosa e la risposta è stata adesso non ricordo di chi che sulle pagine gialle questo nome non risultava e andate via queste persone io sono da prendere il mio elenco telefonico e ho visto che questo nome c'era in effetti una via Gradoli a Roma esiste e c'è davvero un covo delle BR un covo molto importante via Gradoli 96 è l'appartamento in cui sta Mario Moretti le forze dell'ordine ce l'hanno arrivate molto vicino e già il 18 marzo due giorni dopo il sequestro di Moro stavano perquisendo la palazzina avvisate da un'inquilina che aveva sentito qualcosa di strano suonano anche alla porta dell'interno 11 proprio quello di Moretti ma non risponde nessuno e se ne vanno il covo lo scopriranno il 18 aprile quando Moro è ancora prigioniero qualcuno ha lasciato la doccia aperta un rovinetto a telefono tenuto da una scopa col getto rivolto contro il muro e la signora del piano di sotto ha notato l'acqua sul soffitto e ha chiamato i vigili del fuoco è strano sicuramente e c'è anche un falso comunicato delle Brigate Rosse proprio quel 18 aprile viene ritrovato il comunicato numero 7 che annuncia che Moro è stato ucciso e gettato nelle acque del lago della Duchessa ma non torna intanto il lago è ghiacciato e anche il comunicato è strano è stato scritto con una testina rotante IBM con alcuni caratteri leggermente limati come quella che usano le Brigate Rosse ma è un falso a farlo è stato un pregiudicato legato alla banda della Magliana Antonio Chichiarelli che poi verrà ucciso da un killer nel 1984 banda della Magliana Tony Chichiarelli ma questa è un'altra storia Moro è nelle mani delle Brigate Rosse lo Stato ha scelto la linea della fermezza intanto ci sono gli appelli del segretario delle Nazioni Unite Kurt Valdain del leader dell'OLP Yasser Arafat del Papa di Aldo Moro ahimè nessuna altra notizia abbiamo trepidato ieri alla scadenza dell'ora fissata dagli uomini autocostituitisi giudici unilaterali e carnefici e trepidiamo ancora sempre sperando e pregando che sia risparmiata a Roma all'Italia al mondo e specialmente alla famiglia agli amici la consumazione del criminale annunciato misfatto e ci sono le telefonate dei brigattisti che sollecitano interventi da parte della famiglia Moro senta io sono uno di quelli che c'era qualcosa a che fare con suo padre devo fare un'ultima comunicazione sì noi che siamo questa telefonata va per puro scrupolo perché suo padre insiste nel dire che siete state un po' incannati e probabilmente state ragionando su un equivoco finora avete fatto tutte cose che sono non servono assolutamente niente noi crediamo che invece ormai i giochi siano fatti e abbiamo già preso una decisione nelle prossime ore non potremo fare altro che eseguire ciò che abbiamo detto nel comunicato numero 8 quindi crediamo solo questo che sia possibile un intervento di Zaccagnini immediato e chiarificatore in questo senso se ciò non avviene rendetevi conto che noi non potremo far altro che questo mi hai capito esattamente? sì l'ho capito benissimo ecco quindi è possibile solo questo l'abbiamo fatto semplicemente per scrupolo nel senso che una condanna morta non è una cosa sulla quale si possa prendere così la leggera neanche da parte nostra noi siamo disposti a sopportare le responsabilità che competono che ci competono e vorremmo appunto siccome sono state insiste crede che appunto non siete intervenuti direttamente perché siete mal consigliati noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare che ci lasciano fare perché ci vengono proprio prigionieri no il problema è politico quindi a questo punto deve intervenire la democrazia non abbiamo insistito moltissimo su questo perché è l'unica maniera per cui si possa arrivare eventualmente a una trattativa se questo non avviene nelle prossime ore non posso discutere non solo di scoparlo devo semplicemente fare questa comunicazione solo un intervento diretto immediato il chiarificatore preciso di Zaccagnini può modificare la situazione noi abbiamo già preso la decisione nelle prossime ore accadrà l'inevitabile non possiamo fare il trimenti non ho nient'altro da dirle anche all'interno delle Brigate Rosse ci sono parecchie divisioni se lo Stato non cede che cosa bisogna fare? uccidere il Presidente Moro o liberarlo come il Dottor Sossi che fare? ucciderlo o liberarlo? è il Professor Franco Tritta? e chi parla? è il Dottor Nicolai sì Nicolai è l'Edo Professor Franco Tritta? sì ma io voglio sapere chi parla Brigate Rosse Brigate Rosse ti bene? ha capito? sì vi attempiamo le ultime volontà del Presidente comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onore dell'Aldo Moro mi sento? mi sento? no si può ripetere non posso ripetere allora lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani in via Caetani via Caetani lì c'è una Renault 4 rossa i primi numeri di targa sono N5 devo telefonare io no dovrebbe andare personalmente io non posso non può? dovrebbe per forza cortesia no mi dispiace ma cioè se lei telefona verrebbe meno l'avventimento delle richieste che c'era ce l'ha fatto espressamente parli con mio padre la prego che c'era che c'era che c'era 25 anni dopo c'è un treno che corre che va avanti verso una destinazione che nessuno dei passeggeri immagina non l'immagina il sovrintendente Petri non l'immagina Nadia non l'immaginava nessuno allora nel 78 dove sarebbe arrivato quel treno se lo avessero immaginato avrebbero avuto paura perché questa è una storia di fantasmi ombre nere che escono da quella che Sergio Zavoli in un programma storico ha chiamato la notte della repubblica fantasmi che fanno paura come in un film dell'orrore se ne stanno nascosti nel buio e non basta ignorarli non basta chiudere gli occhi e tirarsi il lenzuolo sulla testa perché svaniscano questi sono fantasmi che non svaniscono questi sono fantasmi che esistono e che tornano 25 anni dopo su un treno c'è un poliziotto che si sta avvicinando ad una donna la donna tiene sulle ginocchia un piccolo computer palmare sta scrivendo sta battendo sui tasti velocemente cosa sta scrivendo cosa c'è in quel computer dove va quel treno che si sta avvicinando